A ruota libera su passato, presente e futuro, altrimenti detto sul gossip, sul lavoro in tv e sul festival di Sanremo, chissà, un giorno, forse. Stefano De Martino, intervistato da fanpage.it, ha parlato ampiamente del suo percorso personale e di creare, privato e pubblico, pubblico e privato, la linea è sottile, così come è sottile capire quando il chiacchiericcio ti bracca senza volerlo o quando quel chiacchiericcio sei tu ad alimentarlo? E chi meglio può saperlo se non colui che per anni, e ancora oggi, ha riempito le pagine della cronaca rosa per via del suo rapporto con Belen Rodriguez. Altro tema trattato nell'intervista con la testata campana è stato quello relativo al nuovo programma tv cucito su misura per lui da Rai 2, Barstella, in onda dal 28 dicembre in seconda serata, a partire dalle 22.50, per quattro appuntamenti, ed è proprio da Barstella che è partito il danzatore napoletano, definendolo un esperimento. Quando devi sperimentare, il tema su cui fare le variazioni deve essere un tema che conosci bene, come nella musica con gli assoli. Non c'era nessun luogo più valido del Barstella che mi permettesse di sentirmi a casa, ha spiegato il napoletano, aggiungendo che ha provato a ricostruire un posto familiare in cui avvengono le dinamiche di un bar italiano che è il Berdy Tu, De Martino, 32 anni, è uno tra i conduttori televisivi più giovani del panorama italiano. Su Rai 2, con Made in Sud e stasera tutto è possibile, ha cominciato a togliersi molte soddisfazioni. Il punto è che ora c'è un programma nuovo e un volto, il suo, giovane. Non sempre tale binomio è garanzia di successo, vedi il caso Alessandro Cattelana alla guida di Da Grande, per quello che penso io ha dichiarato l'ex allievo di Amici, Alessandro ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, credo ci sia solo bisogno di tempo e, forse, di una somministrazione diversa. Torniamo alla metafora della ristorazione, se vuoi mettere un nuovo piatto in menù ti serve tempo perché i clienti si abituino e perché tu possa affinare quel piatto.